Siamo nell'era delle conferenze stampa. Anna Maria Ferrero ha risposto a uno dei più assillanti interrogativi del secolo affermando finalmente che sì se lo spose il suo Jean Sorel e proprio perché c'era molta troppa gente che diceva invece di no. Lello Bersani ha accolto quel sì in attesa che lo faccia un bel giorno all'ufficiale di stato civile. Già perché prima bisogna che Anna Maria Ferrero a Roma e Jean Sorel a Vienna finiscano i loro film. È duro fare i fidanzati di celluloide.